ciao stefano come è una brutta giornata purtroppo sai però l'inverno è così è così c'è poco da fare dai tempo da caccia eh sì tempo di caccia speriamo ora si va a vedere se si ammazza una beccaccia vediamo dai speriamo e andiamo a fare qualcosa si prova si prova a fare qualcosa di buono vai si parte a a a Oggi andiamo a caccia con due carri campiani, caccia grande e caccia spolto. Due carri completi, che hanno visto sia in caccia stagme, caccia pratica e anche caccia beccace. E oggi possiamo vedere di sfatare il mondo che si dice che un carri da prove non può salvare la caccia. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Il filmo Ford è a 242 metri. In quel senso? Anzi, 100 metri. E' ecco, sono là, sono là. E' ecco, sono là. E' ecco, sono là. San Sebastian trustori Vai vai! Ford, Ford! Ford, 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 Ford Ford, 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 Ford Ford, Ford, Ford e così abbiamo finito anche questa giornata di caccia ringrazio i miei ausiliari forte per avermi fatto divertire e aver dimostrato ancora una volta di essere dei veri campioni grazie forte grazie ad Hans grazie a tutti